Lui è Terence, ha 5 anni. Terence fa parte di una cucciolata abbandonata di 6 cani. Le sue sorelle sono state adottate poche settimane fa e lui, della famiglia, della numerosa famiglia, è rimasto solo. Terence è un cane molto vivace, è un cane che gli piace giocare, è un cane che sta a contatto sia con adulti che con bambini. Con molta attenzione lo si può abituare anche a gatti, cani e a qualsiasi altro animale. È un cane a cui gli piace fare passeggiate. Ti sorride, dalla mattina alla sera ti sorride. E se tu gli ricambi, ne sarei veramente contento. Se volete veramente adottarlo, chiamateci, che lui vi sta aspettando. Ve l'avevo detto, Terence sorride. Quando un cane sorride, o meglio si dice metta il muso da gioco, lo fa perché vuole dare un segnale di non aggressività, un segnale rassicurante. E quindi questo bellissimo cagnolone Terence ha voluto dire con queste immagini a tutti voi portatemi a casa, giocherò con voi. Sarò divertente, sarò allegro, sarò il vostro compagno per tutta la mia vita. E sarà lunga perché Terence ha solo cinque anni. Ma non potete immaginare, amici, in questo momento che io sto parlando, a questa signorina è venuto al singhiozzo, come i bambini. Ehi, come si fa? Perché lei è proprio una cucciolina. Lo mandiamo via questo singhiozzo? Dai che sta passando. Che dolcezza che sono questi cagnolini. Posto? Posso tornare a parlare di Terence? Ok, allora, Terence, il nostro meraviglioso cucciolone sorridente è pronto per arrivare a casa vostra. Quindi, carta e penna, annotiamo subito il numero di telefono per chiamare il rifugio che lo ospita. Il 329 4147083